buongiorno a tutti ragazzi benvenuti alla nostra lettura di oggi giriamo le nostre carte studenti guardate bene se sentite il bisogno mettete in pausa ed esercitatevi un pochino insieme a me e andiamo a vedere quali sono quindi le energie di oggi come sapete questa lettura è valida per il momento in cui la vedete cioè adesso è valida per il giorno presente cioè oggi o i giorni comunque intorno a questo abbiamo come energie un asso di bastoni un 5 di spade e un 2 di spade quindi possiamo già subito notare che da una bella partenza da un qualcosa che inizia un nuovo inizio probabilmente qualcuno che compie un'azione anche abbastanza evidente abbastanza forte quello che segue sono due carte di spade e cioè tutte le difficoltà che derivano proprio da questa azione proprio da questa scelta vedremo come andrà a finire la nostra storia e in che modo questa azione ci porterà avanti nella nostra storia personale il nostro asso di bastoni innanzitutto è tanto è un asso di bastoni molto bello cioè un asso che parla di cose che davvero potrebbero che promettono bene che potrebbero creare qualcosa di bello di meraviglioso per la nostra vita guardate ad esempio questa carta si tratta di un asso che esce fuori da una nuvoletta quindi come se fosse un'azione quasi divina e la nostra forse divinità interiore che ci spinge a compiere questa azione o magari è qualcuno che lo fa verso di noi inoltre le foglioline di questo asso ci dimostrano che il legno è vivo non è un legno morto è un legno ancora vivo che può creare che può produrre qualcosa di nuovo dare origine alla nascita di qualcosa di nuovo quando c'è questo genere di energia sicuramente l'asso cioè l'azione compiuta promette molto bene può portare a ottenere dei grandi risultati inoltre anche i colori anche i colori ci dicono tanto abbiamo l'arancione abbiamo questo giallino abbiamo il marrone il colore della terra il verde che è il colore delle piante e la nuvoletta il bianco della purezza della punto di questa divinità di questa forza superiore che ci guide che ci invita e ci spinge a fare qualcosa o a subire qualcosa ebbene questa è una carta che esprime azione esprime attività ed esprime anche pensiero dietro l'azione che cosa mi trasmette l'idea del pensiero ebbene ragazzi io fin dal primo livello quando parliamo di colori spiego che il colore giallo è il colore del pensiero e non perché lo decido io o perché lo abbia deciso qualcuno prima di me ma perché realmente il giallo è il colore del nostro corpo mentale che si trova esattamente intorno alla testa quando voi fate degli esperimenti ecco per esempio io in questi giorni sto preparando un po una cosina sto preparando una robina a livello di nuove lezioni nuove cose per preparare i miei studenti a fare magia qualunque tipo di magia che sia una magia mentale quindi che siano dei lavori come usare la legge d'attrazione o usare la telepsichia sia che si tratti magari di magia ritualistica ecco fra questi fra queste lezioni alcune saranno proprio sul farvi scoprire quello che voi siete in grado di fare e vi renderete conto molti di voi che seguiranno queste lezioni si renderanno conto che sono in grado di vedere non dico come un chiaroveggente ma hanno come dire la capacità che ha il chiaroveggente la differenza qual è che noi ce l'abbiamo molto ridotta poco allenata anzi per niente noi non siamo per niente abituati a vedere come vedono i chiaroveggenti ma se ci alleniamo se ci esercitiamo la possiamo sviluppare io non vi farò allenare ed esercitare perché so che siete pigri come me molte persone sono pigre quello che vi farò fare sarà farvi vedere voi per la prima volta vedrete questa cosa da lì capirete che potete anche migliorare nell'osservazione e se volete proseguire poi la scelta vostra altrimenti avrete fatto l'esperienza del vedere delle cose una di queste cose che si possono vedere senza bisogno di essere di avere poteri paranormali è proprio il campo aurico è proprio il corpo energetico e quella parte di corpo energetico che si trova attorno alla testa è di colore giallo dorato per questo nei per questo nei quadri antichi dei santi dei religiosi si disegna l'aureola dorata attorno alla testa perché chi guardava queste persone in un certo modo vedeva questo cerchio questa sfera dorata attorno alla testa che ragazzi alcuni di voi possono vedere quando l'ho vista io non ci credevo che avrei potuto vederla però nel mio percorso sciamanico mi hanno dato la possibilità di sperimentare queste cose e ho scoperto che anch'io vedevo quindi ecco lo vedrete anche voi vi farò fare questi esercizi torniamo un attimo al motivo per cui vi stavo parlando di questa cosa il giallo il colore giallo in questo caso è un arancione quindi non è solo un giallo mentale ma è un arancione di mente e creatività il secondo chakra è arancione la creatività l'energia sessuale che poi noi chiamiamo energia sessuale ma in realtà è energia creativa quindi per questo a volte si sbaglia associando il secondo chakra semplicemente a una questione sessuale no in realtà lì nel secondo chakra noi abbiamo una chiandola energetica che è deputata anche a tutto ciò che per noi è creatività e creazione quindi quando io faccio creo un nuovo video corso sto usando il secondo chakra capite cosa voglio dire non è che il secondo chakra si usa solo per quello no anche per crea anche per fare una torta al cioccolato fatta bene se ci mettete la vostra creatività state usando il secondo chakra quindi arancione dunque questa carta a me trasmette quest'idea di idee di creatività di cose che agiscono dentro di noi e che si manifestano fuori bella bella bellissima la nostra il nostro asso di bastoni che quindi ci parla anche di una nuova partenza e di un qualcosa di nuovo di qualche iniziativa nuova che decidiamo di prendere è associato alle carte della superiorità e del vengo da te quando si dice che chi è superiore chi deve fare la prima mossa a io non la faccio io sono superiore allora chi fa la prima mossa chi è superiore o chi è inferiore chi è che viene chi è che fa lo sforzo di andare verso qualcun altro me lo direte voi me lo direte voi ad ogni modo questa parte centrale della stesa voi sapete che si riferisce a qualunque ambito della vita può essere amore famiglia lavoro progetti viaggi amicizie relazioni qualunque cosa quindi questa parte vi si proporrà in qualche ambito che poi ci direte voi quindi qualcuno viene da te o voi andate da qualcuno c'è questo gesto c'è questa presa quest'iniziativa quindi se si tratta di qualcuno di un uomo a cui voi tenete dal punto di vista sessuale o affettivo potrebbe proprio essere il giorno in cui questo arriva arriva certo con un po di aria di superiorità con un po di aria di superiorità o magari voi avete l'aria di superiorità quando lo incontrate quando lo vedete vi bussa alla porta non lo so però ecco se si tratta di relazioni c'è di sicuro un'interazione c'è di sicuro un andare verso l'altro e se invece si tratta di lavoro beh perché no una proposta un progetto un'idea un qualcosa da fare insieme se si tratta di amicizie cavolo facciamo quella cosa insieme usciamo andiamo lì andiamo a vedere quel posto andiamo a mangiare qualcosa iniziamo qualcosa insieme mi direte voi seconda carta il 5 di spade insieme all'intraprendenza è mai una mano di aiuto ebbè ma è una mano di aiuto e sicuramente questo gesto è un gesto molto intraprendente ed è anche da premiare io direi perché davvero c'è tanta bella energia dietro quindi sia che lo facciamo noi sia che lo faccia qualcuno con noi io proprio lo premio cioè mi viene proprio bello è un gesto intenso con il 5 di spade capiamo però che dobbiamo forse spingere tanto per raggiungere per fare davvero quello che vogliamo dobbiamo spingere tanto dobbiamo essere disposti a scendere un po' compromessi essere molto intraprendenti fare da soli perché purtroppo così è la vita quando uno deve fare una cosa molto spesso si ritrova da sola a farla senza aiuto e anche in questo caso cosa dirvi ragazzi che se state facendo una proposta a qualcuno nell'ambito amoroso affettivo e ma magari siete voi che andate lì ma dall'altra parte non c'è aiuto non c'è collaborazione cioè siete voi che dovete proprio insistere spingere o viceversa se lo fanno verso di voi voi non collaborate voi avete quest'aria di superiorità devono essere molto intraprendenti per venire da voi perché voi non gli date spazio non gli date una grande mano quindi non è facile se non si tratta di relazioni sentimentali ma si tratta di altre cose altri ambiti della vostra esperienza di vita comunque sia il discorso è proprio questo c'è da insistere c'è da lavorarci c'è da faticare non è una cosa semplice perché proprio non avete una mano d'aiuto quindi dovete veramente cavarvela da soli e sbattervi un po' da soli ultima carta il nostro due di spade con i parenti e il non essere sdolcinato il due di spade finale in realtà è il dubbio è un po' il rimanere incastrati perché non sappiamo esattamente come fare come proseguire cioè il fatto di essere da soli in tutto questo sicuramente non aiuta forse avremo davvero bisogno invece di qualche consiglio o addirittura di un aiuto vero e proprio fisico e invece no e invece no e allora il punto è proprio questo se pensate davvero di avere bisogno di qualcun altro non leccate a nessuno cioè scusate non leccate il a nessuno non andate dietro a nessuno non cercate di addolcire qualcuno per darvi una mano non cercate di non cercate di essere sdolcinati con qualcuno per ottenere in cambio qualcosa questo aiuto no no non è la strada giusta non vi porta da nessuna parte non aiuta non ci aiuterà in questo quindi piuttosto quello che evince da questa sequenza di carte è che il modo migliore invece abbiamo davvero preso questa decisione siamo andati abbiamo fatto questo gesto questa mossa ok bisogna essere molto intraprendenti per farlo molto forti molto convinti perché nessuno ci aiuta ok abbiamo deciso di farlo sì allora facciamolo e quando troviamo degli ostacoli fermiamoci finché non troviamo una soluzione non cerchiamo di correre e non cerchiamo nemmeno di manipolare gli altri o essere un po o di raggirare gli altri per trovare scorciatoie non è la strada non è la se lo fosse ve lo direi se ci fosse una via d'uscita in questo senso ve lo direi invece la cosa migliore è proprio fermarsi fermi dico avete fatto la vostra parte o se qualcun altro lo ha fatto verso di voi e lo sta facendo verso di voi e voi state mettendo in difficoltà questa persona perché non è che sta proprio ricevere non è che sta proprio ottenendo grandissimi risultati anche lì questa persona deve capire che è il caso di fermarsi e pensare e osservare e non correre adesso andiamo un po a vedere il nostro sacro maschile e il nostro sacro femminile come se la stanno passando che tipo di che tipo di energie manifestano guarda un po che cosa c'è un po problematica la situazione perché ci sono tanti pensieri per entrambi sia il maschile che il femminile sono davvero sovra pensiero iper cioè il cricetino che gira dentro la ruota dentro il cranio delle persone sta girando 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 non va da nessuna parte poverino non trova proprio non trova pace in questo girare 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 pensare 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 io credo che il maschile stiamo sia in una fase molto introspettiva quasi femminile abbiamo un maschile rappresentato dalla carta della luna che è tipicamente una carta che parla di femminilità ma in questo caso in realtà parla di introspezione parla di segreti parla di cose non dette cose non viste con un tocco di autoanalisi che non guasta mai il maschile sta riflettendo su ciò che il femminile potrebbe essere e potrebbe rappresentare non credo che lo sappia ancora non credo che abbia le idee chiarissime ma soprattutto è un maschile che deve anche definire che cosa dire che cosa non dire che quale lato di sé manifestare e quale lato di sé invece tenere nascosto tenere oscuro il maschile obiettivamente sembra mi sembra un po' una roba così per i single ve lo dico per i single si tratta di un'incertezza e un'insicurezza cioè probabilmente i single hanno incontrato qualcuno di interessante però non sanno cosa questa persona potrebbe diventare se diventare un'amicizia o qualcosa di più io o meglio le carte dicono che in questi casi è più probabile che diventi un'amicizia se siete proprio in questa condizione di una conoscenza di un qualcosa di un flirt però le carte consigliano anche al maschile di correre qualche rischio per vedere se potrebbe esserci magari qualcosa di più qualcosa di diverso corretelo qualche rischio non abbiatene paura e tirate fuori qualcosa di più qualcosa di diverso qui invece con il nostro sette di coppe altrettanto femminile confuso qua è un femminile che ha diverse opzioni ma qua è un femminile che non sta capendo non sta capendo è un femminile confuso che ha le idee poco chiare anche perché il maschile non si sta esponendo molto e quindi il femminile non capisce se si tratta non di single ma di persone in coppia qua c'è qualcuno che sta nascondendo delle cose qui c'è un uomo un maschile che non sta dicendo tutto quello che pensa e che prova che sta proprio nascondendo delle cose dei pensieri delle paranoie e che e qua ve la dico ma vale solo per qualcuno di voi quindi non imparanoiatevi mi raccomando ci sono alcuni in alcune situazioni il maschile ha conosciuto qualcun altro e gli si sta facendo venire i dubbi perché ha conosciuto quest'altra persona e non sa esattamente che cosa questa persona potrebbe rappresentare io non credo che sia un pericolo per chi è in coppia io penso piuttosto che questa nuova conoscenza serva solo a smuovere le acque solo a fare riflettere a fare capire a fare fare dell'autoanalisi ma in realtà è la probabilità più alta è che rimanga nell'ambito appunto dell'amicizia è solo che questa persona che entra spingerà il maschile a fare qualcosa di diverso utile alla propria crescita infine come dicevo il femminile anche il femminile qui è molto confuso il femminile non sa proprio che pesci pigliare perché non capisce il maschile che non è chiaro abbiamo un femminile che tra l'altro ci tiene ci tiene a questa situazione a questa persona disposto un femminile disposto a lottare ad andare avanti anche se sta facendo dei paragoni sta facendo dei paragoni il femminile perché dice sì però questa persona è così altre persone erano così quindi un femminile che non è non è focalizzato solo ed esclusivamente su questo maschile ma sta facendo paragoni insomma un po tutti e due mi sa che state facendo paragoni però scusatemi perché se c'è il maschile che potrebbe avere questa nuova conoscenza e c'è il femminile che fa paragoni con il passato o con altri tutti si stanno mettendo un po in dubbio in questo momento tutti stanno mettendo in dubbio le proprie emozioni e i propri sentimenti sia che si tratti di coppie sia che si tratti di single state mettendo in discussione che una cosa molto bella e molto importante per crescere bene con se stessi per una propria crescita personale ma anche per una crescita eventuale della coppia o per attrarre la persona giusta quindi se siete single e vivete certe dinamiche in modo molto consapevole questo è il modo migliore per attrarre il meglio se siete in coppia e vivete certe dinamiche in modo consapevole questo è modo migliore per prendere dall'esperienza il massimo apprendimento il massimo risultato e quindi vivere al meglio la vostra relazione di coppia ad ogni modo per quanto riguarda il femminile credo che qualcuno stia per intromettersi e fare chiarezza quindi è comunque un qualcosa se ci sono dei dubbi sono dei dubbi che stanno per essere sciolti e adesso ragazzi vorrei prima di chiudere fare un'ulteriore stesa un'ulteriore lettura segno per segno e cioè voglio tirare giù due carte per ogni segno zodiacale per capire dal punto di vista emotivo per capire in amore che cosa sta accadendo se questa parte della stesa vi interessa e volete che io la rifaccia anche nei prossimi video commentatemelo qui sotto quindi intanto io ragazzi vi ricordo che se volete una sessione privata con me ho un pacchetto con live coaching analisi karmica potete inviare un email o prenotare direttamente dal sito internet chi vuole diventare mio studente può chiedere informazioni senza nessun impegno sui videocorsi e potete appunto vedere anche quali opzioni ci sono in questo momento di scontistica e di rateizzazione ne parlerete ovviamente con la mia collaboratrice ma adesso vediamo segno per segno che cosa sta accadendo per il segno dell'ariete benissimo uno dei due sta andando a cercare l'altro per chiedere perdono quindi arietini oggi o in questi giorni intorno ad oggi qualcosa di molto ma molto carino sta per accadere per quanto riguarda il toro avevo detto prendevo due carte ma una in effetti basta per quanto riguarda il toro il toro si sta sentendo invece rifiutato o qualcuno che ha a che fare con il toro si sta sentendo rifiutato dovete capire se volete lavorare su questa energia oppure lasciarla lì con me perché non non vi interessa abbastanza il gemelli allora per quanto riguarda il gemelli nell'ambito amoroso in questo momento alcuni gemelli hanno conosciuto qualcuno e questi gemelli che hanno conosciuto qualcuno che si stanno domandando ma potrebbe o potrebbe non essere la persona giusta allora io vi dico questo che al di là di quello che potrebbe essere o diventare c'è qualcosa che non avete ancora visto qualcosa di cui vi accorgerete dopo qualcosa che non vi piace questo non significa che questo qualcosa distruggerà la possibilità di una relazione di un amore no significa solamente che dovete fare attenzione a questo qualcosa quindi occhi aperti gemelli occhi aperti perché ve ne accorgerete strada facendo il cancro invece in questo momento ha perso interesse per qualcuno quindi c'era un qualcosa nell'aria ma in questi giorni diciamo che l'interesse è calato è sceso di qualche tono o magari è qualcuno che verso il cancro ha proprio calato è sceso di qualche tono per quanto riguarda il leone bravi leone poi sì che mi date soddisfazioni denaro carriera lavoro focalizzati su voi stessi e sulle cose che per voi sono importanti davvero perché ripeto sempre per stare bene con gli altri in relazione bisogna stare con bene con se stessi e quindi bisogna essere e sentirsi realizzati qui abbiamo un leoncino dei leoncini che si stanno sentendo realizzati o che stanno lavorando sulla loro realizzazione personale prima di dedicarsi agli altri all'altro ottimo leoni anche perché voi leoni a volte siete troppo di cuore troppo e quindi invece bene così bene vergine qualcuno sta per avvicinarsi signori proprio in questo momento che io sono tranquillissima e felicemente sola qualcuno sta per avvicinarsi vergine tenetevi forte poi mi fate sapere se succede qualcosa oggi in questi giorni e speriamo bene speriamo speriamo bene bilancia la bilancia deve stare attenta perché la bilancia gioca con il fuoco ora dico io perché le bilance perché le bilance spessissimo si ritrovano a giocare con io tanti ex bilancia almeno due importanti e si ritrovano spesso a giocare con il fuoco perché arrivano a volte arrivano proprio a delle condizioni un po estreme e insomma state attenti perché rischiate o di farvi male o di fare male a qualcun altro quindi per favore per favore per favore scorpione va qua abbiamo uno scorpione che vive un momento in cui vuole un'altra opportunità però non è anche lo scorpione in realtà non è proprio pronto 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 a fare sul serio cioè vuole un'altra opportunità ma non è pronto pronto a fare sul serio o magari ragazzi dello scorpione sta capitando a voi di avere a che fare con qualcuno che vuole un'altra opportunità ma non è pronto a fare sul serio e a sto punto che cosa volete dalla vita degli altri se non sapete manco voi quello che volete per voi stessi sagittario sagittario allora se in questo momento in questi giorni il sagittario sta vivendo situazioni problematiche drammi atteggiamenti poco chiari non preoccupatevi perché per fortuna non durerà troppo quindi qualunque problemino dai più grandi ai più piccoli potreste vivere in questi giorni state sereni sagittari rilassatevi non guardate queste cose come davvero delle problematiche grosse ma ridimensionatele guardatele per quello che sono capricorno il capricorno allora se il capricorni voi capricorni state frequentando qualcuno di nuovo oppure avete già una relazione da tempo ma ci sono in questo momento delle questioni che danno origine a discussioni in coppia la soluzione è saperne di più avete bisogno di saperne di più quindi se siete single dovete saperne di più di quella persona se siete in coppia dovete saperne di più della situazione acquario che acquario dai acquario acquario non complicare le cose acquario segui la semplicità gli acquari a volte si complicano la vita senza motivo reale ma per motivi puramente mentali poi tra l'altro gli acquari hanno una mente brillante cioè io conosco degli acquari che davvero gli acquari sono le persone sono fra i segni con cui io preferisco parlare e fare chiacchiere perché sono interessantissimi però a volte a volte si complicano troppo la vita cercate di essere più semplici in questi giorni pesci ah pesci se avete a che fare con qualcuno che non vi merita o che vi sta trattando in un modo che voi non meritate questo è assolutamente il momento di mettere in chiaro la situazione perché potete avere molto di meglio quindi se qualcuno oggi o in questi giorni vi manca di rispetto mi raccomando non perdete di vista il fatto che voi meritate di meglio e che nessuno nessuno ha il diritto di trattarvi male ok abbiamo finito con le energie dei singoli segni e non ci resta a questo punto che vedere l'ultima delle nostre energie che è quella dell'angelo che cosa avranno gli angeli da dirci che cosa avranno gli angeli da dirci prendiamo una carta e vediamo che con questo otto d'acqua il desiderio di andare avanti finalmente diventa più concreto finalmente iniziamo a muoverci non solo a desiderare di muoverci e questo ci sta portando obiettivamente e inevitabilmente ad una crescita un'importante crescita noi stiamo cercando qualcosa di più significativo siamo arrivati a un punto in cui non ci basta più quello che c'è perché quello che c'è ok lo abbiamo integrato fa parte di noi ma quello che non abbiamo integrato e che non fa parte di noi non lo vogliamo se non lo abbiamo integrato finora è perché non è possibile farlo è perché non è compatibile con noi con la nostra voglia con la nostra vita quindi ecco focalizzatevi sull'andare avanti un passo dietro l'altro azione e con questo ragazzi io spero di esservi stata utile spero che vi sia piaciuta la lettura dei singoli segni fatemelo sapere se la rivolete e noi ci sentiamo alla prossima